. Benedetta Parodi umiliata e cacciata via dalla sorella, ecco perché. Colpo di scena a Domenica in, Benedetta Parodi cacciata dallo speciale dedicato a Sanremo. Benedetta Parodi viene cacciata via dalla sorella Cristina dal cast di Domenica in? E' questa la domanda, e si stanno opponendo i tantissimi fan del programma di Raiuno dopo aver visto che questa settimana c'è stato un cambio alla guardia dello show, che eccezionalmente è andato in onda dal palco della Riston per celebrare il grande successo del festival di Sanremo targato Claudio Baglioni. Domenica in fa il record di ascolti senza Benedetta Parodi. Ecco allora che Cristina Parodi ha avuto la possibilità di calcare il prestigioso palco della Riston di Sanremo per condurre una puntata speciale della sua Domenica in che quest'anno sta facendo molta fatida a decollare dal punto di viata degli ascolti nonostante la presenza nel cast di sua sorella Benedetta. Sì, per c'è in un primo momento il progetto iniziale della trasmissione era proprio quello di vedere condotta la trasmissione dalle sue sorelle Parodi, le quali per la prima volta avrebbero presentato insieme in televisione. Insomma l'approdo delle Parodi al Timone di Domenica in doveva essere un vero colpaccio da parte della Rai, che in questo modo sperava e credeva di poter tenere a bada gli ascolti della Domenica Live di Barbara D'Urso in onda su Canale 5, ma purtroppo non è stato così. E così col passare delle settimane la presenza di Benedetta Parodi al Timone di Domenica in è stata nettamente ridimensionata e questa settimana non ha proprio partecipati allo speciale dedicato al Festival di Sanremo. Un vero e proprio colpo di segna, che ovviamente non è passato inosservato. Perché Benedetta Parodi è stata raccacciata da Domenica in? In molti, in fattri, si sono chiesti che fine avesse fatto Benedetta dal cast della trasmissione e la notizia ha fatto subito il giro dei social, dove in moltissimi si sono chiesti il perché di tale scelta. Come se non bastasse poi abbiamo visto che Cristina Parodi nel corso della puntata speciale di Domenica in ha salutato anche Claudio Litti, altro assente in questo speciale Sanremese a causa dell'influenza, ma non ha fatto lo stesso con sua sorella Benedetta. Ecco perché gli spettatori social di Domenica in hanno ipotizzato, che il rapporto tra le due sorelle Parodi non fosse dei migliori. Possibile che ci sia un po' di maretta dovuta proprio al fatto che questa Domenica in è stata stravolta rispetto al progetto iniziale e Benedetta sia stata relegata in un angolo e addirittura cacciata via dalla puntata Sanremese, che da sempre, nella storia di Domenica in, è la più vista in assoluto della stagione? Vedremo come risponderanno le sorelle Parodi a queste insinuazioni sociali. Grazie a tutti!